Noi dell'Italia dei Valori abbiamo deciso di fare necessità virtù, non abbiamo i mezzi televisivi o i mezzi di informazione che hanno altri e allora usiamo incontrare direttamente i cittadini, territorio per territorio, piazza per piazza per fare in modo di comunicare direttamente con loro, per seminare una nuova speranza, per individuare nuovi frutti da coltivare tra la società civile e nuove persone che si vogliono impegnare, per cercare di denunciare la presenza delle erbacce che si trovano nelle istituzioni e nei vari territori a livello nazionale, per preparare a un futuro raccolto che sia un pompane per tutti. Il 6 e 7 giugno, Italia dei Valori